ciao alex sonofri in questo video vedremo un concetto ed una strategia fondamentale per essere strong che renderà la vostra vita veramente completamente diversa e vedrete dico sul serio si tratta della tecnica per essere strategicamente e cazzutamente giocosi divertenti e praticamente piacevoli ed umoristici cosa che rende una persona diversa dagli altri e veramente strong in modo completamente differente da quello che molti potrebbero immaginarsi quindi vi dico che è basato sul principio della giocosità che è un principio magari particolare strano ma che rientra nei sette principi per diventare strong che potete trovare nell'altro mio video che vi linko sopra in cui parla delle basi dell'essere strong i sette principi sette pilastri il principio della giocosità ossia la strategia la teoria e la tecnica per migliorare la propria vita la propria percezione qualsiasi altro elemento che adesso vedremo ma anche ciò che otteniamo dagli altri in qualsiasi livello a livello di vendita persuasione seduzione conquista terapia comunicazione eccetera eccetera allora vediamo come mai questo elemento è così fondamentale come utilizzarlo allora intanto una strategia specifica anche se è semplice come strategia nel senso che basta che ve ne parlo e già la capite è essere giocosi a degli elementi molto potenti molto strong come dico io che vi renderanno una persona realmente diversa rispetto a prima se adotterete queste cose prima non le avevate adottate e rispetto agli altri che non adottano perché non vedono non guardano i miei video e quindi mi dispiace tanto per loro a favore vostro allora praticamente giocosità che significa perché ho chiamato uno dei sette principi per diventare strong così è con questo nome strano giocosità essere giocosi allora primo punto se tu giochi vinci sempre perché perché praticamente quando una persona gioca si diverte quando una persona e quindi se si diverte sta bene e quindi se sta bene ha vinto su qualsiasi punto di vista su qualsiasi cosa se le cose vanno bene o male se tu ti diverti e quindi godi e hai piacere hai vinto perché se stai bene vinci sempre ok già questo se tu ti dice se tu riesci ad essere giocoso in ogni situazione riesci a vincere in ogni situazione qualsiasi cosa accada ok secondo elemento se tu sei giocoso quindi ogni cosa che fai trovi un modo per divertirti per giocare eccetera eccetera cosa accade accade che ogni sforzo viene abbassato diminuito accade che tu provi passione per più elementi che magari devi fare per forza e quindi puoi durare più tempo farlo con più tenacia perché ti logori di meno perché tu stai giocando ok adesso tiro degli elementi un pochino più precisi prima voglio farti una piccola panoramica poi verso gli altri allora se tu sei giocoso e quindi sei anche un po umoristico un po divertente un po diciamo così easy quando ti rapporti con gli altri cosa fai conquisti di più gli altri perché perché una persona che si diverte che gioca che ti fa divertire che ti fa ridere che diciamolo fa in modo che adesso vedremo non da scimmietta o da clown ma come persona strategica e forte quindi strong e ti conquista perché perché tutti vogliono stare con una persona che ti fa star bene con una persona che praticamente è ti fa divertire ti fa sorridere ti fa avere una piacevole sensazione dei momenti piacevoli ricorda che anche uno dei principi base dell'essere strong è offrire valore essere persone di valore e quando una persona che sta con te sta bene ride gioca scherza perché tu sei giocoso divertente scherzoso eccetera eccetera nel modo giusto la persona sta bene quindi hai dato automaticamente anche valore e questo è anche strategico strategia altro elemento dell'essere strong quindi quando sei con una persona ricordati che se tu mostri di essere piacevole a livello di umorismo a livello che fai qualche battuta che una persona vede che giochi un po' nelle cose non ti prendi troppo sul serio non sei scontato non sei sempre cupo non sei sempre uno che si annoia che 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 rompe le palle che sta sempre lì a questo qui mi è capitato questo a me è tapino me è poverino qui qua le solite cose ma è una gioia che però magari le dite non per divertire ma proprio perché ma è una gioia stiamo morendo tutti cioè queste cose qua ecco se voi fate tutta sta roba qui allontanate tutti cioè create una depressione la gente che dopo che vi ha visto si suicida invece se voi mostrate che qualsiasi cosa accade in ogni situazione con chiunque siete sempre piacevoli giocosi un po' scherzosi un po' umoristici eccetera e ora vi dico come farlo la persona si troverà già solo per questo a star bene con voi e quindi se sta bene con voi vede che siete umoristi tutte queste cose qui senza che le ripeto se no vi riguardate il video praticamente la persona percepirà del valore e vorrà stare con voi e quindi cosa accadrà accadrà che sarà più disposta a vedersi con voi sarà più disposta ad ascoltare ciò che dite a prova ad accettare ciò che proponete ad essere persuase convinta da voi eccetera eccetera ok perché starà bene e siamo tutti un po egoisti e quindi se stiamo bene con qualcuno ci stiamo ok ecco poi qual è l'elemento in più ancora più strategico è che se noi facciamo un umorismo cazzuto e c'è che fa ridere però in modo cazzuto non in modo comico da clown o da scimmetta da circo come dico sempre io ma in modo cazzuto per questo lo chiamo io ho creato proprio un sistema che è quello dell'umorismo cazzuto strategico cioè un umorismo che si è piacevole fa ridere non ti fa prendere sul serio e quindi in modo easy in modo fluido eccetera in modo che gli altri trovano piacevole divertente e su cui ridono e stanno bene però è anche cazzuto vedi che le battute che faccio anch'io a te nei video dal vivo queste cose qua e non è l'umorismo quello da battuta da classica da barzelletta ma un umorismo che ha anche del carattere che ha una venatura d'acciaio nel senso va bene tu devi stare attento quando guardi i miei video perché se poi arrivi in fondo al video dici buca ha detto non lo so cosa ha detto cosa ha detto buca non lo so vabbè andiamo a giocare a golf ecco allora sei un coglione perché stai perdendo il tuo tempo cioè nel senso stai mesi e mesi a guardare i miei video poi non ci è capito niente quindi devi stare attento quando guardi i miei video devi prendere appunti perché se io muoio e fanno crollare il mio canale youtube poi perdi tutto e quindi ecco vedi che ti sto un po accusando è una cosa lo dico però in modo umoristico un po è cavolo sta lì perdi tempo porca mignotta allora è meglio che vai giocare a golf non star qui a perdere tempo a guardare i miei video se poi li guardi così come una mummia guarda un muro capito ecco dicendo le cose in modo un po umoristico un po scherzoso però sempre vedi la venatura forte strong di carattere tu comunichi di avere una personalità di avere sicurezza di avere determinazione autorevolezza eccetera però di non prenderti sul serio di far star bene la persona e questo è strategico per questo che è un umorismo cazzuto quindi che comunica elementi belli tosti e strategico perché tu puoi accusare una persona può dire anche cose un pochino cattivelle se però le metti in modo umoristico riesce a dirle senza che l'altra persona se la prenda ok così fai prima perché se no ci stai a girare intorno tre quarti d'ora ecco invece come fa la satira tu con l'umorismo puoi essere strategico o strategica insomma puoi dire cose senza che l'altra persona se la prenda e anzi conquistandola con questo elemento che ti rende carismatico come individuo e quindi unisci l'utile al dilettevole cioè fai star bene la persona stai bene tu riesci ad ottenere altri obiettivi perché riesce a dire una cosa un po rapidamente un po in modo cazzuto però diciamo mettendoci un po di zucchero e quindi tutto è migliore rispetto a prima quindi con la giocosità tu riesci a divertirti perché quando stai lì magari a lavorare quando stai a dire anche un concetto tecnico come questi qua tu però fai battute ti diverti scherzi giochi ti prendi poco sul serio dici una cazzata fai un po di spirito insomma tutte queste cose qui sempre in modo calibrato non esagerato non scontato uno stupido quindi tu stai bene e se stai bene vinci sempre quindi la tua vita migliora fai star bene chi è di fronte e quindi sarà più persuaso sedotto convinto eccetera eccetera da te e vorrà stare sempre più con te senza che magari stai lì a pagarli la cena soprattutto queste cose qua e quindi ottieni più dagli altri comunichi meglio e gli altri inoltre altro elemento ti vedono come una persona piacevole che sta bene e quando non sta bene gli altri credono che tu stia bene perché le cose ti vadano bene e se ti vanno bene perché sei vincente cioè uno che vince ottiene le cose sa ottenerle e quindi fa indirettamente una sorta di preselezione di invio di caratteristiche di autorità autorevolezza valore e capacità personale quindi sta seducendo ancor più la persona è per questo che l'umorismo cazzuto è strategico anche per questo elemento perché fa vedere che a te le cose vanno bene quindi sei una persona di valore e che ha successo nella vita perché nessuno segue persone perdenti nessuno segue persone che stanno male tutti vogliono una persona potente la persona vincente la persona che ottiene cose la persona che sta bene che ti fa star bene che mostra di avere una vita in cui sa farsi valere sa ottenere ciò che desidera eccetera eccetera quindi stai bene tu sta meglio l'altra persona ottieni più la tua vita perché è migliore ti annoi di meno e duri di più e sei più costruttivo e per più tempo puoi produrre perché se fai tutte le cose in modo giocoso e piacevole e divertente vai più avanti e ti diciamo così hai meno attriti ti consumi di meno poi gli altri ti danno di più ti chiedono di più nel senso ti chiedono servizi chiedono di stare con te eccetera eccetera e quindi seduci vendi persuadi conquisti aiuti comunichi in modo migliore poi li fai anche star bene nel senso che insomma tutte queste elementi fanno sì che se tu cosa che voglio fare con questo video non voglio dirti cose ovvie ma se tu dopo questo video instilli nella tua mente quella vocina che ti dice ma sei divertente sei piacevole agli altri stai facendo questa cosa in modo giocoso in modo divertente in modo umoristico stai cercando di far star bene chi è di fronte con queste cose mostri di essere vincente eccetera perché sei uno easy che non se la prende nelle cose che si diverte che gioca che non anche nelle cose più cupe concrete è però trova un modo per divertirsi ora ti farò anche degli esempi ecco se io con questo video riesco a ristillarti questa vocina nella mente già questo video vale qualche migliaio di euro perché se tu ogni giorno della tua vita lo utilizzi utilizzi questa strategia ti migliora tutto verso di te verso la tua vita verso gli altri verso come stai verso la produttività verso l'ottenimento verso come gli altri vedono qualsiasi cosa provaci non puoi essere strong se non hai instillato dentro di te il principio della giocosità è uno dei sette pilastri fondamentali perché ha una strategia grandissima non è soltanto divertiti fa qualche battuta si si ma che cazzo no è un elemento completamente strategico anche se è la persona più cupa più seria e più autoritaria e autorevole del mondo essere un po' giocosi è intelligente se non sei un po' giocoso eccetera un po' divertente un po' umoristico non riuscirai mai ad avere il massimo da te dagli altri dal mondo e dalla vita e anche dallo spazio dall'universo e dall'aldilà perché anche nell'aldilà forse se c'è qualcosa dovremmo essere giocosi quindi se tu stai in fila al supermercato puoi stare lì e dire che palle devo fare la fila mi passano sempre avanti questi qua poi c'è quello lì che puzza che palle allora praticamente che fai dice ok devo essere giocoso come ti stillo questa vocina così diventi schizofrenico schizzato dissociato psichiatricamente e poi così è finita insomma alla fine i miei fan vengono tutti portati internati benissimo quindi andrà benissimo il canale vabbè a parte questo qua no scherzo se la vocina avete una vocina siete schizzati psichiatricamente però quella vocina vi dà buoni consigli vi dice anche si giocoso eccetera ma non psichiatricamente malato allora va tutto bene comunque tolta la parentesi se voi state lì in fila al posto di rompervi le palle rompere le palle agli altri sbruffare star lì a giocare con tetris al cazzo di cellulare vi ricordate che dovete essere giocosi divertenti giocare ridere scherzare magari state lì e dire cavolo no guardando qualcuno a dire queste file insomma caspita una vita ad aspettare chi sta lì a farti passare lo scontrino cioè dobbiamo fare la fila per pagare ti rendi conto cioè insomma iniziate a fare un po di umorismo strategico no a cazzeggiare con quello con l'altro cioè accogliete l'occasione magari per flertare per verificare il linguaggio del corpo di qualcuno del coglione di fronte di quello che sbruffa di quello che prova no provate ad applicare qualche tecnica cioè provate a giocare giocare divertitevi e magari fate qualche battutina qualche affermazione e riuscite anche a flertare potete dire che caspita è qui adesso poi mi brontola lo stomaco devo mangiare qualcosa caspita qui non c'è ma poi non so neanche se vicino a questo supermercato c'è un bar che qua insomma uno va in giro neanche si riesce a prendere un caffè così bla 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 ma qui sopra e sotto parlate di tutte queste cazzate qua la persona ride scherza gioca con voi mentre fate la fila così si annoia di meno non vede la vostra faccia da fesso che sta di alla fila moriremo tutti insomma queste cose qua ma dice cazzo questa persona è interessante è intrigante mi fa divertirmi ha fatto ridere e magari viene a prendere il caffè con voi capito e dice va bene viene a prendere il caffè con me così al posto di insomma di star lì a piangere ci porto io così non mi rompio le palle che non si trova nel bar il caffè insomma queste cose qua ok quindi in ogni situazione giocate divertitevi scherzate perché tanto le cose che non si possono risolvere non è che le fate andare meglio se state lì a sbavarvi addosso perché tutto va male tutto il tempo ok quindi questa è una cosa potente vi rende strong vi darà tanti di quegli elementi che voi metterete sul piedistallo questo video troveremo un modo per metterlo sul piedistallo e tornerete a ringraziarmi quindi se il video ti è piaciuto ma quindi è scontato devi mettere un like devi condividerlo devi commentare con tutti i tuoi consigli anche le critiche e poi ti menerò privatamente in seduta a sede e poi praticamente c'è menerò nel senso picchierò questa dialettale perugino insomma queste cose qua e poi iscriviti al canale perché ci saranno tante novità magari non spuntare la campanella se ti rompe le palle basta che torni ogni 2-3 ore a vedere se ho caricato un nuovo video anche se ne carico uno all'anno tu devi farlo perché mi vuoi bene e va bene insomma tutte queste cose che già sai se vuoi una consulenza mi contatti privatamente adesso faremo anche degli eventi dal vivo se vuoi collaborare fammi sapere insomma tutte queste cose qua non allunghiamo inutilmente il video tanto sta roba la sai perché sono telepatico e te la mando telepaticamente ciao da Alex Onofri ci vediamo nel prossimo video grazie a tutti